ciao a tutte e benvenuto bentornate sul mio canale allora oggi voglio mostrarvi questa ragazza che è tornata dopo quattro settimane questa è la lunghietta che avevamo fatto insieme un semi permanente con rinforzo la prima cosa che vado a fare sempre spruzzare il mio hand sanitizer di fox dove vi ricordo avete il codice sconto con il codice macolina 95 inizio subito con la rimozione allora utilizzo una fascia rossa perché in questo caso vado a rimuovere un semi permanente quindi non devo rimuovere granché di prodotto o il mio schema ben preciso in testa da seguire e che mi velocizza tantissimo durante la rimozione vi consiglio di averlo anche voi siate sempre delicate usato una fresa di qualità perché questo aiuta molto nel lavoro sia in velocità che a non far danni su l'unghia una volta rimosso il colore vado a uniformare bene la struttura e togliere l'eccesso dopodiché io già con la fresa vado ad accorciare perché mi velocizzo piuttosto che farlo con la lima poi comunque la lima la vado utilizzare per dare la forma vi ricordo comunque che voi potete scrivermi su instagram per chiedere informazioni riguardo i miei corsi online per esempio al momento trovate il corso di rigori il corso sul semi permanente con rinforzo e il corso sul frencio in superficie che vedrete anche in questo video vado poi con lo spingi cuticole e mi sollevo bene tutta quanta la cuticola poi uso questa punta fiamma che ha fascia gialla perché lei ha una pelle estremamente delicata quindi se vado anche solo con una rossa sicuro la la faccio sanguinare quindi la fascia gialla è necessaria in questi casi questa punta viene dal sito di dry manicure anche qua avete il codice sconto macolina 95 e io lavoro sempre da metà unghia verso sinistra e poi invertendo i giri faccio l'altra metà di unghia quindi vado nel senso contrario è importante questa operazione perché da questo dipende sia la stesura del colore sotto cuticola ma anche proprio del prodotto quindi per avere una stesura ottimale del prodotto vicino alla zona della cuticola è proprio necessario avere fatto un'ottima manicure in questo caso quindi vi mostro come vado anche a fare le le callosità che troviamo nei valli laterali io vado sempre a pulire bene la zona con lo spazzolino cilindretti a grana 240 questi di jet nails comodissimi non ne ho mai provati di questa fattura sono ottimi questi devo essere sincera e avete anche qua il codice sconto che è macolina 95 jet nails 10 valido sul sito appunto e vista consiglio di jet nails sia questi cilindretti che non avevo mai provati ma sono veramente ottimi la 240 è ottima per andare proprio a pacizzare al posto la lima ci velocizza tantissimo ma anche le loro dual form le adoro perché sono molto molto grandi quindi anche per chi ha le unghie grosse non avrà problemi con quelle dual questo passaggio va fatto con estrema delicatezza giri bassi e la passo anche sulla vecchia struttura perché devo avere una superficie il più liscia e omogenea possibile quindi la passo ovunque dopodiché prendo le mia alla mia anima fox la mia lima queste qua sono quelle piccoline comodissime mi piacciono tantissimo grana 180 l'attacco è monouso quindi super igienica e vado a dare forma alla mia solita forma quindi io vado a rimuoverle gli angolini e vado a stondare un pochino la punta dopodiché posso passare al taglio della cuticola queste sono le forbicine starx magnolia e le potete trovare se non erro le ha anche ales cosmetics la fam dove avete il codice sconto macolina 24a scritto tutto in maiuscolo inizio a fare il taglio questa è un'operazione molto delicata dobbiamo stare attentissime a mantenere i tessuti quindi a non danneggiarli a non far uscire sangue e a tagliare solamente l'eccesso su di lei in particolar modo devo stare attenta perché è veramente veramente delicata quindi calcolate che se poco poco andate sulla sua pelle con il buffer quindi ragazzi parliamo del buffer lei sanguina è veramente delicata quindi lavoro leggera leggera e faccio sempre attenzione a dove vanno le punte della forbicina quindi taglio sempre con le punte mai oltre questo per non rischiare di tagliare fatto questa operazione del taglio della cuticola poi posso tornare indietro se ho qualche piccola pellicina che è rimasta posso sempre perfezionare il mio taglio questo assolutamente si può fare siamo pronte per andare a fare la pulizia quindi spruzzo il cleaner e con la mia punta questa qui a spazzolina vado a rimuovere completamente tutta la polvere sia sopra che sotto l'unghia mi raccomando questo è uno degli step più importanti perché la polvere è causa di sollevamento quindi lavoriamo nel pulito e cerchiamo di rimuoverla tutta adesso nail prep su tutta l'unghia io mi concentro ovviamente dove ho la zona di ricrescita e poi primer non acido poco prodotto sto attenta non andare sulla pelle e vado con la base abbiamo scelto questa qua che la tona la 007 di fox mi aiuto poi col pennellino 002 questo perché dovrò andare come vi avevo detto a fare il french su due unghie quindi questa base mi aiuta per creare un ottimo sfondo per il french allora vado a fare la mia stesura di scivolo e poi vado a fare il mio rinforzo nel corso online il mio corso online del semi permanente con rinforzo io vi mostro tre metodi diversi per effettuarlo vi mostro bene come capire dove mettere il prodotto quindi qual è il punto stress quantità di prodotto e come creare un ottimo riflesso che è la base tutte le informazioni poi faccio girare l'unghietta perché non si stima il livello il prodotto quindi per chi fosse interessata mi invito a scrivermi su instagram controllo il riflesso che deve essere perfetto e poi vado in lampada queste sono le unghie una volta uscita la lampada quindi non ho effettuato la limatura perché non bisogna limare il prodotto dobbiamo già stenderlo perfettamente andremo poi utilizzare marrakesh 098 di musa che è questo color melanzana bellissimo è veramente stupendo è molto 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 pigmentato e andrò a fare il mio monocolore su mignolo indice e pollice su anulare medio di entrambe le mani e andrò a fare invece un french sempre con lo stesso colore perché tanto è molto pigmentato e me lo posso permettere quello che vado a fare in questo momento è spostare bene indietro la cuticola se abbiamo fatto un ottima manicure ci sarà molto semplice andare a fare il giro cuticola quindi infilare il colore sotto la cuticola per ovviare la ricrescita avere un effetto estetico molto molto migliore e vabbè senza dubbio l'occhio ripaga oltre che per il fatto della ricrescita quindi vado molto molto delicatamente a inserire il colore sotto la cuticola e poi una volta che mi sono perfezionata col pennello vado a stendere il monocolore su tutta l'unghia farò un'unica passata perché questo colore è estremamente pigmentato ed è veramente bellissimo ragazzi e come vi dicevo online troverete anche il mio corso sul french in superficie il french in superficie ha degli schemi io nel corso vi insegnerò a farlo su qualsiasi forma e su qualsiasi lunghezza io non utilizzo quasi più gli schemi perché ormai dopo anni vado a occhio quindi il mio occhio già riconosce la proporzione e riconosce il tipo di french per il tipo di forma quindi vado semplicemente a realizzarlo parto da un punto all'altro mi creo la mia smile line utilizzo sempre il mio pennellino questo qua è lo 02 quello che ho utilizzato sempre per aiutarmi a livellare la base e con poco prodotto perché dobbiamo star sottili perché stiamo lavorando in superficie vado a ricrearmi il mio french sigillo tutto con il top di verin che è senza dispersione sto testando alcuni prodotti di verin e devo dire che mi stanno piacendo quindi ve ne parlerò a breve ho testato anche un acry gel e un gel costruttore un colore semi permanente molto pigmentato mi è piaciuto davvero tanto quindi a breve vi parlerò anche di questo brand e vado semplicemente anche qua a fare attenzione al blick finale che non deve essere rovinato quindi è importante sempre fare un'ottima stesura anche del top una volta poi sigillato sono andata ad applicare anche degli svaroschini sull'anulare ho messo l'olio cuticole alla cannella di la fama che è buonissimo e questo qui è il risultato finale se siete arrivati fino a qua lasciate giù nei commenti l'emoticon della melanzana spero che il video vi sia stato utile che vi sia piaciuto io vi mando un grande grande bacio noi ci vediamo come sempre al prossimo ciao